Vedo tutto quel dubbio. Sarò io a porvi finire. Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Cosa? Ma non sopravviverai mai. Tranquilla. Sono nata per fare questo. Lily, ti prego. Oh, questo è troppo per me. La cella per fare è connessa. Per perdere la connessa per perdere la connessione neurale. Ne manca... Ne manca... è fatta. Sconfitto. Sconfitto. Grazie a tutti. Lì, lei... Grazie a tutti.